Ben trovati con Magixan, l'azienda leader che da anni si occupa della vostra mobilità. Rinunciate spesso ad uscire di casa perché avete qualche difficoltà nei movimenti o semplicemente vi stancate troppo. Se avete limitazioni più o meno gravi di mobilità o se semplicemente desiderate fare un bel regalo ad una persona cara, beh Magixan Mobility è quello che fa per voi. Da oggi con i Mobility Scooter Magixan potete ritrovare il piacere di uscire e vivere pienamente la vostra giornata, ritrovando gli amici e gli affetti più cari in completa autonomia. Magixan ha progettato diversi modelli di Mobility Scooter, tra i quali Gaio il più compatto e versatile, Astro ideale per lunghe percorrenze, Boston lo scooter estralarge. Ed una novità della quale vi parlerò più tardi, quindi mi raccomando rimanete con noi perché ne vale davvero la pena. Non dimentichiamoci inoltre delle PowerShare, le poltroncine elettriche della gamma Magixan Mobility a 4 o addirittura 6 ruote per venire incontro alle richieste più specifiche. Ho ritrovato il piacere di portare i bimbi al parco. Con giornate di questo tipo sarebbe un peccato rimanere chiusi in casa. E tra l'altro ho conquistato fiducia anche in famiglia. Tutti mi dicono che sono diventato un ottimo babysitter. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per prenotare una visita gratuita e senza impegno di un operatore direttamente a casa vostra. Potrete toccare con mano la qualità Magixan, ricevere tutte le informazioni che desiderate sui vari modelli e addirittura provare lo scooter Gaio gratuitamente e senza impegno. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o PowerShare Magixan potrete ricevere compreso nel prezzo un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Gli scooter elettrici Magixan Mobility sono mezzi estremamente robusti e affidabili, coperti da garanzia europea e rappresentano al meglio la filosofia della Magixan, un'azienda che ogni giorno da molti anni ha messo al primo posto la soddisfazione dei clienti, proponendo soluzioni innovative alla portata di tutti. Pensate, potrete accedere alla gamma Magixan Mobility a partire da 398 euro con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Ormai da tempo avevo rinunciato ad andare da sola al supermercato, un amico mi ha consigliato lo scooter della Magixan Mobility e finalmente ho ritrovato la mia autonomia e la voglia di uscire quando voglio. Alla fine non ho saputo resistere, mi mette di buon umore. Ormai uscire con lo scooter è diventata una piacevole abitudine. Per il mio settantesimo compleanno mi hanno preso Gaio, lo scooter della Magixan Mobility, un regalo che mi ha cambiato la vita. Eccolo, lo scooter Gaio, il più piccolo e divertente della gamma Magixan semplice da usare ed è il mezzo ideale per muoversi in totale comodità sia all'interno che all'esterno della vostra abitazione. Grazie alle sue dimensioni compatte lo scooter Gaio è davvero maneggevole. Inoltre può essere smontato con semplici gesti, caricato nel bagagliaio di qualsiasi automobile per essere trasportato ovunque con la massima facilità. Per ricaricarlo basta inserire la spina in una qualunque presa di corrente e il vostro Gaio sarà pronto a portarvi in giro per ore e ore. E ricordate, ben quattro ruote antifuratura che garantiscono stabilità e sicurezza. Altra cosa molto pratica, le batterie si possono facilmente rimuovere dal corpo dello scooter permettendola di carica in qualunque angolo della propria abitazione. Chiamate ora, provate Gaio direttamente a casa vostra senza impegno. Non rinunciate più ad uscire. Comodo e smontabile, due parole per raccontare il mio scooter elettrico Gaio. Ho scoperto Magixan proprio nel momento giusto della mia vita. Magixan ha davvero migliorato la qualità della mia vita. Avete sentito? Grazie agli scooter elettrici Magixan potrete di nuovo ritrovare la vostra autonomia. Potrete uscire, fare la spesa, divertirvi, andare a prendere i nipotini a scuola, insomma muovervi senza tante preoccupazioni. E ora parliamo del mio scooter preferito, il modello Astro, definito lo scooter che ti porta lontano proprio per via delle sue potenti batterie. Grazie al pratico indicatore. Potrete sempre tenere sotto controllo il livello di carica per godervi il tragitto con tutta tranquillità. Inoltre, caratteristica comune a tutti i mobility scooter Magixan, i comandi sono chiari e semplici. Non serve avere esperienza nella guida di uno scooter o di un'automobile. Questi mezzi sono veramente accessibili per un gran numero di persone. E allora non rinunciate alle serate con gli amici, ad andare al parco o a fare la spesa. Non rinunciate più alla vostra autonomia. Pensate, per questo modello è disponibile volendo cover, l'accessorio ideale per ripararsi dal freddo e dal vento. Ed è possibile scegliere di chiudere interamente la cover per ottenere una protezione completa dalle correnti d'aria e dal freddo. Oppure si può decidere di tenere aperto uno o entrambi i lati. La cover è resistente, si applica facilmente e in poco tempo. Potrete così montarla o smontarla a vostro piacimento a seconda del periodo dell'anno, cambiando quindi l'aspetto del vostro Astro. Astro sarà come avere due scooter anziché uno solo. Ho avuto modo di conoscere Astro, lo scooter elettrico che mi ha permesso di ritrovare la mia autonomia. Un tecnico specializzato è venuto a casa mia e in pochi minuti ha dotato Astro della cover. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per avere tutte le informazioni. Questo è il momento giusto per acquistare uno scooter Magixan. Potrete usufruire infatti delle agevolazioni fiscali e avrete modo di toccare con mano la qualità Magixan direttamente a casa vostra senza impegno. Vi ricordo inoltre il ritiro dell'usato e la possibilità di avere pagamenti rateali. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o Powerchair Magixan potrete ricevere compreso nel prezzo un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Magixan Mobility vi propone una vasta gamma di modelli pensati per ogni esigenza. Costruiti con materiali di elevata qualità sono ai vertici della categoria e ricordate ben quattro ruote che garantiscono stabilità e sicurezza. Con la loro grande solidità costruttiva gli scooter elettrici Magixan vi portano ovunque robusti, affidabili e semplici da usare. Quando ho detto agli amici che volevo acquistare uno scooter elettrico Magixan non ci credevano e mi prendevano in giro. Quando l'ho acquistato e portato al parco ci sono ricreduti, hanno voluto provarlo e hanno telefonato alla Magixan per poterlo acquistare. Sono di una certa stazza e soffro facilmente di mal di schiena, cammino un po' precariamente ed è per questo che cercavo uno scooter che mi aiutasse un po' a fare le salite, le discese, camminare nelle strade un po' brutte che ci sono intorno a casa mia e mi sono rivolto a Magixan. Ho scelto lo scooter Boston che inizialmente mi sembrava uno scooter a benzina, invece no, è uno scooter totalmente elettrico, è su quattro ruote, ha il clacson, le frecce, gli specchietti retrovisori e si guida senza patente, non si paga il bollo. Molto spesso la gente per strada mi ferma chiedendo informazioni, lo vuol provare, io a volte lo faccio anche provare, però consiglio sempre di telefonare alla Magixan per avere maggiori dettagli. Adesso parliamo di Boston. Grazie alla sua costruzione ultra solida è lo scooter pensato per le taglie forti. È un vero e proprio scooter estralarge. Beh, le piccole strade in salita non sono un ostacolo per il suo potente motore e il suo robusto telaio. Tra gli accessori più specifici di questo modello vi ricordo la Captain Chair, una comoda poltrona regolabile e reclinabile, il paraurti cromato anteriore e posteriore, un sistema di sospensioni che consente il massimo del comfort in tutte le situazioni. Grazie a Magixan ho finalmente uno scooter che riesce a trasportare il mio peso senza problemi. Per fortuna ho scoperto Boston. Adesso posso muovermi in libertà. Posso andare dove voglio e non mi ferma più nessuno. All'inizio di questa telepromozione vi ho detto che Magixan ha progettato diversi modelli di mobility scooter. Gaio, il più compatto e versatile. Astro, ideale per le lunghe percorrenze. E Boston, lo scooter extra large. Ma attenzione, a questi straordinari modelli si va ad aggiungere l'ultima importante novità di casa Magixan. Denver, lo scooter cabinato, pensato e progettato per assicurarvi il massimo del comfort in ogni periodo dell'anno. Sì, perché la sua particolare scocca protegge dalle intemperie, assicurandovi sempre un tetto sopra la testa. Inoltre, grazie alla sua versatilità, le due porte laterali possono essere rimosse nei periodi estivi. Questo innovativo scooter è dotato di dispositivi che rendono la guida divertente e sicura allo stesso tempo. Il manubrio a delta è multifunzione, con cambio a due velocità. Inoltre, il tergicristallo posto sul parabrezza assicura una buona visibilità in tutte le situazioni. Sedile imbottito, porte con tasche interne e finestrini a compasso, luci di posizione e indicatori di direzione completano il profilo del cabinato, unico nel suo genere. Sembrava impossibile trovare un veicolo così. Finché un giorno ho scoperto Denver, uno scooter venduto dalla Magixan. Era proprio quello che cercavo, piccolo, compatto, carrozzato, elettrico e soprattutto lo potevo guidare senza patente. Credetemi, sono rinato. E allora non lasciatevi sfuggire questa eccezionale opportunità. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per prenotare una visita gratuita e senza impegno di un operatore Magixan. Potrete ricevere tutte le informazioni che desiderate e usufruire di importanti agevolazioni. E in questo periodo, con l'acquisto di uno scooter o di una Powerchair Magixan, potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile, oppure un moderno telefono cellulare, oppure un tecnologico tablet. Magixan inoltre ritira e valuta il vostro usato. Che cosa vuol dire? Che se avete un vecchio scooter ormai in disuso, chiamate perché ve lo valuteranno permettendovi di acquistare un mobility scooter di ultima generazione a condizioni vantaggiosissime. Se avete un vecchio scooter da cambiare, fate come me, chiamate Magixan, ve lo supervaluteranno. Me l'hanno consegnato direttamente a casa e in poco tempo. Ora vado dovunque e senza tante preoccupazioni. Mi spiace solo di non averci pensato prima. La Magixan ha pensato di includere nella gamma mobility anche le Powerchair che si muovono grazie ad un semplice joystick. Purtroppo mia madre non riesce più a camminare come una volta. Ho deciso di acquistare la sedia e devo dire che da allora la vita della mamma è davvero cambiata e anche la nostra. Da anni ho imparato a convivere con i miei problemi e gli arti inferiori. Purtroppo non riesco più a camminare come prima. Un giorno ho visto in tv la Powerchair ed ho pensato che potesse essere la soluzione giusta anche per me. Le Powerchair Magixan Mobility sono state progettate per rendere davvero la vita più facile a chiunque abbia problemi più o meno gravi di deambulazione. Il joystick che può essere montato facilmente sia a destra che a sinistra permette un perfetto controllo. Ma che ne dite? È una bella soluzione, vero? È l'acquisto migliore che abbia fatto negli ultimi anni. Questa Powerchair è davvero incredibile. Gira su se stessa a 360 gradi e mi porto ovunque. Guardate le ruote. Da quando l'ho comprata ogni occasione è buona per uscire con gli amici e gironzolare per negozi. Mi piace perché è comoda, tecnologica, facile da utilizzare e poi è bella. Ora mi muovo in modo autonomo e tutto grazie a questo semplice joystick. La poltroncina è stata la soluzione ideale per tutti noi. Spostarsi è diventato decisamente piacevole. Siamo proprio soddisfatti. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per avere tutte le informazioni. Questo è il momento giusto per acquistare uno scooter Magixam. Potrete usufruire infatti delle agevolazioni fiscali e avrete modo di toccare con mano la qualità Magixam direttamente a casa vostra senza impegno. Vi ricordo inoltre il ritiro dell'usato e la possibilità di avere pagamenti rateali. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o Powerchair Magixam potrete ricevere compreso nel prezzo un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Non dimenticate inoltre il ritiro dell'usato, le agevolazioni fiscali e la possibilità di pagamenti personalizzati. Ricordate c'è sempre uno scooter Magixam adatto alle vostre esigenze. Pensate, potrete accedere alla gamma Magixam Mobility a partire da 398 euro con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Grazie agli scooter Magixam Mobility potrete di nuovo ritrovare la vostra autonomia. Potrete uscire, fare la spesa, divertirvi, andare a prendere nipotini a scuola e se avete problemi più o meno gravi di diambulazione o se semplicemente volete muovervi senza fatica, Magixam Mobility è quello che fa per voi.